L'assessorato alle politiche sociali del comune di Pisticci, in collaborazione con gli uffici dei servizi sociali, ha annunciato l'istituzione dello sportello digitale solidale che aprirà al pubblico mercoledì 21 febbraio. Due le sedi, il Museo Civico presso Palazzo Gian Antonio a Pisticci e la Delegazione Comunale a Marconia. Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di rispondere alle difficoltà che molti cittadini incontrano nell'accesso ai servizi che richiedono competenze informatiche, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali Dolores Troiano. Lo sportello risponde a un'esigenza che abbiamo riscontrato nella nostra comunità. Offrirà assistenza personalizzata per una serie di servizi cruciali come l'accesso ai servizi pubblici online e si avvarrà della collaborazione dei volontari del servizio civile. È un punto di incontro e di supporto, spiega l'assessore, dove l'inclusione digitale diventa una realtà concreta e accessibile a tutti. Tra le attività previste, i cittadini potranno ricevere supporto per l'utilizzo dell'app dedicata alla prenotazione degli appuntamenti all'ufficio postale, consentendo loro di evitare lunghe attese in fila. Inoltre sarà fornito aiuto nella prenotazione di visite mediche specialistiche presso i CUP dedicati, semplificando così l'accesso alle cure sanitarie. Come dicevamo, lo sportello digitale solidale sarà inaugurato mercoledì 21 febbraio. I giorni e orari di apertura saranno a Pisticci, presso il Museo Civico a Palazzo Gian Antonio, dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13. Armarconia in delegazione comunale al primo piano, dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13.